Un progetto per il recupero del complesso immobiliare di Forte Cesare nella comune di Monte Castrilli. Lo ha proposto già da tempo il comune, ma nel frattempo l'imponente struttura sta letteralmente cadendo a pezzi. Gigi Scardocci è andato a vedere. Da vent'anni c'è il vincolo della soprintendenza per il complesso immobiliare di Forte Cesare nel comune di Monte Castrilli, che si fa risalire al 700. Casa, torri, stalle, ma anche tanti prati e boschi per un totale di 185 ettari. Tutto sta cadendo a pezzi. La zona è transennata perché è pericolante. Il sindaco di Monte Castrilli, Fabio Angelucci, spera ancora per poco, visto che ha già discusso in regione un ambizioso progetto che ruoterebbe intorno a una struttura turistico-ricettiva di alto livello, con tanto di campo da golf a 18 buche. Dal primo luogo bisogna recuperare il complesso di Forte Cesare, che è una struttura settecendesca e quindi è importante che venga rivalorizzata dal punto di vista storico e culturale e possa essere il punto principe di partenza dello sviluppo del turistico nell'ambito del progetto. Proprio su questo progetto si sta impegnando concretamente anche Svilupp Umbria, che punta al recupero del patrimonio immobiliare regionale. Il complesso turistico prevede una struttura alberghiera centrale di alto livello, annessa al Forte, che ospiterà nelle stanze del palazzo le camere più prestigiose. Localizzerà le altre residenze, il centro congressuale, un centro benessere e i servizi alberghieri nei nuovi volumi del complesso, in relazione e in rapporto funzionale col giardino storico. L'architetto Paolo Aventuri ha elaborato il progetto puntando sulla bioarchitettura. È già partito il confronto con la soprintendenza per le cubature e l'impatto ambientale.